Ci sono parole straniere che ti ronzano per la testa senza suscitarti nessuna curiosità. Un giorno d'improvviso ti trovi di fronte all'oggetto a cui si riferiscono e ti viene voglia di sapere. Questo mi avvenne a Durazzo quando sbarcato udii, cioè riudii, disegnare col nome di Schiperia il paese di cui ero ospite e schipetare i suoi abitanti. Mi dissero che Schiperia voleva dire nido di aquile. Mi guardai intorno. Nido di aquile per un simile paese mi parve una definizione un po' audace. Credetti di capire quando mi dissero che l'aveva messo in giro un poeta. E invece non capii che più tardi. Allora mi resi conto che anche i poeti qualche volta hanno ragione. Con queste parole si affaccia sull'Albania di fine anni 30 un viaggiatore d'eccezione Indro Montanelli che dal suo viaggio avrebbe tratto un libro Albania una e mille. Una come unica eppur in mille realtà. Papa! 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 AExplode Ma, quindi questa sei il tue tuo mambo, tua madre, e tuo padre? Sono loro, e non hai nessuno. Sei sola. Prato, frate. Certo che bisognerebbe fare qualcosa per loro. Qualcosa come? Qualsiasi cosa, l'importante è che li tiriamo fuori da qui. So do it all' review? Non c'è niente da ridere. Vuol dire che non te ne frega niente. Ti piacerebbe vivere in casa loro? Io sto corato. Lui resta, io resto. Lui via, io via. Ma ti rendi conto che lui ha imparato a fare senza di noi? Tina! Ehi, Alvin! Al prossimo episodio